Ciao ragazzi bentornati, oggi parliamo di Italo Svevo. Allora nasce nel 1861 da una famiglia di origine ebraica, infatti il suo vero nome è Ettore Schmitz, però li vuole cambiare il suo nome in Italo da Italiano e Svevo per mostrare la sua origine tedesca. Nel 1870 intraprende i suoi primi studi in Germania, però in realtà diciamo la sua passione resta sempre quello di scrivere in italiano, è molto legato all'italiano. Nel 1880 diviene impiegato della banca dove ci lavora per 18 anni, ma semplicemente cioè in realtà per sopperire alle difficoltà economiche della sua famiglia, ma non è certo questa la strada, non è certo questo il lavoro che lui sognava e quindi nel frattempo amando molto la lettura, amando molto leggere, si avvicina ai classici tedeschi, italiani e francesi e tra i suoi autori più importanti c'è Schopenhauer. Soffermiamoci sempre sul fatto che quando uno ha delle passioni, quando una persona ha una passione non smette mai di alimentarla perché è importante, perché a volte la vita ci vuole far credere che noi siamo semplicemente il nostro lavoro o la definizione degli altri, ma non è così, noi siamo le nostre passioni, siamo quella scintilla che ci tiene vivi. Quindi anche Italo Svevo dice io lavoro in banca, ho apparato i miei problemi economici, però la mia passione ce l'ho sempre e la porta avanti e bene fa. Nel 1892 fu pubblicata a sue spese una sua prima opera, Una vita. Nel 1898 pubblica Senilità. Allora quest'opera non ebbe un grande successo e per lui questa fu una grande sconfitta, infatti decide di non scrivere più per circa 25 anni. Ma la scintilla della passione, lo tiene sempre vivo. Cosa decide di fare? Nel 1900 diciamo che abbandona per un po' la scrittura ma perché è deluso e si avvicina alla musica e decide di imparare a suonare il violino e a imparare l'inglese. Il suo maestro d'inglese è James Joyce che all'epoca in quel momento storico non era ancora molto famoso. Poi si scoprirà essere un grande scrittore. Questa conoscenza è stata importante nella vita di Italo Svevo, ecco quello che auguro a tutti noi e che ci sia diciamo la conoscenza perfetta che poi ci permette di aprire altre porte perché quello cambia la vita. Loro si sono incontrati, al momento diciamo Joyce era l'insegnante di inglese e Italo Svevo gli aveva mostrato alcuni dei suoi romanzi. Lui li aveva trovati interessanti. Poi nel 1923, allora nel 1999 entra a lavorare nella ditta di Vernici del Suocero ma poi ricomincia a scrivere. Nel 1923 Italo Svevo scrive La coscienza di Zeno ed è quest'opera insieme insomma anche alle altre che gli aveva fatto leggere che nel 1925 permettono a Joyce e ad altri scrittori francesi di rendere famoso e popolare Italo Svevo perché trovarono la sua opera molto interessante e la resero popolare prima diciamo in alcuni paesi fino poi in tutta Europa. Quindi ecco quando a volte le conoscenze giuste quelle che auguro a tutti veramente. Nel 1928 muore in un incidente automobilistico e quindi diciamo la sua storia ci parla di un uomo che non si è mai arreso, ha fatto sì che le sue passioni potessero essere da guida però è stato per alcuni aspetti fortunato però per altri una vita stroncata e questa è una cosa brutta. Detto questo ragazzi io vi invito a scaricare la mappa concettuale che troverete al di sotto di questo video è una mappa dove ci sono le date comincia sempre con una data in modo che voi non potete perdere il filo del discorso anche perché ogni frase è un periodo un periodo completo. Inoltre vi lascio sempre un margine per poter aggiungere altri tipi di informazioni quindi scaricate la mappa, studiate da questa mappa, colorate, inserite delle parole, usate parole nuove e in più per la prima lettura della mappa troverete un audio che appunto vi aiuta nella prima lettura quindi potete osservarla mentre io con la mia voce ve la leggo. Detto questo vi invito a sedermi sui social di contattarmi in privato se ci sono argomenti dove può essere utile diciamo il mio aiuto io ci sono per questo sono felice di farlo. Ragazzi studiate non dimenticate mai che voi non siete i voti che avete ma valete molto di più di 6. Buono studio e la cultura ci salva. Ciao!